Musica Durante la notte tra giovedì 20 luglio e venerdì 21 luglio la sala operativa della Guardia Costiera di Oristano ha ricevuto una segnalazione tramite il numero blu di emergenza 1530 per l'insabbiamento di una barca a vela in località Golfo di Oristano, spiaggia di Torre Grande. Il sistema di soccorso si è immediatamente messo in moto. Giunto sul posto l'equipaggio dell'unità SAR ha fornito immediata assistenza assicurandosi che il personale presente a bordo non avesse bisogno di cure mediche e che l'imbarcazione non presentasse danni e perdite di inquinanti. Poco dopo è giunta sul posto anche un'unità adibita al rimorchio che ha provveduto al disincaio dell'imbarcazione e al rimorchio della stessa sino al porticciolo turistico di Torre Grande. La salvaguardia e il soccorso della vita umana in mare, nonché la vigilanza e il controllo delle attività di pesca, di porto, balneazione e tutela dell'ambiente marino, così si legge in una nota diffusa dalla capitaleria, saranno gli obiettivi prioritari dei prossimi mesi e durante tutta la stagione balneare 2017 con l'assetto operativo attivo 24 ore su 24. Il nuovo sindaco di Oristano Andrea Luzzo è impegnato in una performance che non vede soste tra incontri, riunioni e appuntamenti. Alcuni sono quelli tipici del dopo elezioni, si chiamano di doverosa conoscenza e cortesia, provincia, prefettura, questura, carabinieri, tribunale, capitaneria di porto, camera di commercio, consorzio industriale, università, IMC e altri. Altri invece sono lo stesso di taglio istituzionale, ma più impegnativi, quello recente con il ministro Franceschini e il presidente della regione Pigliaro e prima ancora con il sindaco di Cabras, Cristiano Carros. Il problema resta quello del seguire con la necessaria autorevolezza le partite che si stanno aprendo, evitando il più possibile di affidarne la gestione alla sola struttura burocratica dell'ente. Certo questa resta di fondamentale supporto operativo, ma a prevalere deve essere la conduzione politica dell'insieme, prima di tutto attraverso un metodo di lavoro ed un confronto che devono essere collegiali. Il Comune di Oristano ha prorogato il termine per la presentazione delle richieste di accesso al servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico per l'anno 2017-2018. La nuova scadenza è il 25 agosto 2017. Un'unica cabina di regia per i cinque aeroporti sardi è quanto propone il gruppo Riformatori Sardi per l'Europa in Consiglio regionale in una proposta di legge di cui è primo firmatario il capogruppo Attilio Dedoni. Sulla scia del cosiddetto modello Puglia, che si sta imponendo su scala nazionale come esempio virtuoso di una gestione degli scali, la proposta prevede che la Giunta regionale acquisisca una quota azionaria nelle società di gestione di tutti e cinque gli aeroporti isolani, in modo tale da poter contribuire effettivamente ad indirizzarne l'attività e le strategie commerciali. La grave situazione del trasporto aereo nell'isola, così si legge in una nota diffusa dai riformatori, è oramai sotto gli occhi di tutti. Cittadini ed imprese sono ostaggio delle compagnie aeree. La realizzazione di un unico sistema di gestione aeroportuale, che sia in grado di valorizzare la peculiarità di ogni infrastruttura esistente, sarebbe sicuramente più funzionale all'attuale offerta turistica, prosegue la nota, ma potrebbe integrarsi con la necessità di allegare l'offerta verso i centri minori, oggi destinati allo spopolamento e al degrado. L'aeroporto di Ristano-Fenosu potrebbe facilmente essere utilizzato come snodo per il traffico merci, in quanto ben collegato con le principali arterie stradali e collegato al centro della Sardegna. Per questo i riformatori propongono che la regione stanzi 25 milioni di euro per acquisire una quota di almeno il 10% in ciascuna delle società di gestione degli aeroporti, allo scopo, come afferma la proposta di legge, di pervenire ad un sistema aeroportuale più organico e più funzionale a garantire il pieno diritto alla mobilità da e verso l'isola. In materia di protezione civile aggiorneremo le ormai datate leggi regionali di settore, per modernizzare un sistema del volontariato che chiede semplificazione burocratica e massima rappresentatività per operare al meglio. Lo ha dichiarato l'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano nel corso dell'Assemblea Generale del Volontariato di Protezione Civile della Sardegna, svolta nei giorni scorsi ad Abbasanta. All'incontro erano presenti numerosi volontari dei circa 6.000 appartenenti alle 166 associazioni iscritte all'albo regionale, a cui si aggiungono tre gruppi comunali e i tre coordinamenti regionali di Ampas, Prociv Arci e Prociv Italia. Possiamo superare le leggi regionali del 1989 e del 1993, lavorando su un testo unico che ci permetterebbe di mettere ordine in materia, ha spiegato l'assessore Spano. Durante l'Assemblea è stata sottolineata l'importanza di intensificare la formazione di protezione civile, che vedrà un rilancio a partire da settembre. Donatella Spano ha inoltre ringraziato i volontari per l'operato quotidiano all'insegna della solidarietà ed è l'alta professionalità dimostrata all'interno del sistema regionale. Il lavoro che abbiamo sinora svolto ci è stato più volte riconosciuto, ha affermato Spano. Nei giorni scorsi sono arrivati nuovi eleoggi per la lotta agli incendi nell'isola, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Abbiamo cioè dimostrato di essere organizzati bene. Vi chiedo, ha concluso l'assessore dando appuntamento a un autunno per un nuovo incontro, di trovare ogni occasione per condannare l'atto criminale di chi appicca incendi. Grazie per la visione!